Un telegiornale ha ritrovato le immagini nel mio intervento all'inaugurazione del rigassificatore di Rovigo, il più grande e tuttora in servizio. 13 anni fa, voglio ripetere, 13 anni fa avevo sottolineato l'importanza per il nostro Paese di realizzare rigassificatori per diversificare le fonti di approvvigionamento dell'energia per diminuire la nostra dipendenza da un solo Paese, la Russia. Qual è il problema? Che dopo il mio governo non si è fatto quasi nulla, tutti i progetti sono stati fermati e queste sono proprio le conseguenze di una ideologia ambientalista vecchia, miope, senza prospettive, ideologia imposta dalla sinistra. Vedete, i Verdi in Italia, a differenza che in altri Paesi europei, sono semplicemente il partito dei no. A questo ci aggiungono le resistenze delle amministrazioni locali nei confronti di infrastrutture di interesse nazionale che sono necessarie. Io comprendo tutte le paure, dico che il parere dei sindaci va ascoltato, ma non si può bloccare per questo ciò che serve all'intero Paese e che non reca il condanno alle comunità locali. Le paure irrazionali ci hanno condotto alla situazione attuale. Quindi difendere l'ambiente è davvero importante. È una delle grandi scommesse per il futuro dell'umanità.